Non c'è giustificazione sociale o morale per accettare la mancanza di abitazione. Sono situazioni ingiuste, ma Dio le soffre insieme con noi e le sta vivendo a nostro fianco. Non ci lascia soli. Papa Francesco lo ha detto con forza, incontrando 200 senza tetto nella parrocchia di St. Patrick, a Washington, dopo lo storico discorso al Congresso e prima di volare a New York. Nella bella chiesa in stile gotico, il Papa ha detto di vedere nel volto dei poveri quello di San Giuseppe, persona a cui ricorro quando sono un po' inguaiato. Anche il padre reputativo di Gesù ha dovuto affrontare situazioni difficili, soprattutto quando il figlio di Dio è nato senza un tetto per vivere. Come Giuseppe, ha proseguito Francesco, voi e noi ci chiediamo perché questi nostri fratelli sono senza casa. Giuseppe è stato sostenuto dalla fede nelle difficoltà della sua vita e la fede ci apre alla presenza silenziosa di Dio in ogni vita, in ogni persona, in ogni situazione. E la presenza di Dio in mezzo a noi ci spinge la carità perché Gesù continua a bussare le nostre porte nel volto del fratello, di chi ci sta accanto. Il Papa ha concluso l'incontro pregando il Padre Nostro con i senza tetto perché nella preghiera non ci sono persone di prima e seconda classe e il cuore impara a non diventare insensibile davanti alle necessità dei fratelli. Dopo aver benedetto la cappella del Centro di Opere Diocesane di Carità, Francesco ha salutato un gruppo di volontari ed i bisognosi raccolti sotto un tendone per un pranzo offerto dalle Catholic Carities.